Niente bagni a Martinsicuro dopo i divieti di qualche settimana fa che avevano interessato sia la cittadina truentina sia la confinante albadriatica a 200 metri a nord del Vibrata. E' ricomparso nuovamente il divieto di balneazione. I dati sono di lunedì scorso, l'ordinanza è stata emessa subito, abbiamo fatto le controanalisi che hanno dato valori molto al di sotto di quelli iniziali, però purtroppo ancora non all'interno dei parametri giusti. L'altro prelievo c'è stato ieri, i dati li sapremo lunedì e io presumo che si possa procedere poi verosimilmente ad una revoca. Il sindaco Cammaioni ha immediatamente chiesto maggiori controlli ai carabinieri del Noe e all'Arta e già in occasione dell'ultima assemblea dei sindaci in provincia aveva sollecitato l'intervento di tutti i comuni interessati, anche perché questo non è solo un problema di Martinsicuro. La competenza su un fiume non è unicamente dei comuni e questo problema noi lo sentiamo insieme ad albadriatica. Quei 200 metri a nord del Vibrata però devono essere considerate le eccezioni negative di una regola che al contrario modula risultati solo in positivo. Negli altri sei punti di balneazione noi abbiamo una costa di sei chilometri e mezzo, gli altri sei punti di balneazione, i risultati sono eccellenti, ovvero abbiamo concentrazioni particolari sempre e solo al di sotto delle 20 unità formanti colonie. Quindi invito turisti e cittadini ad un moderato ottimismo a considerare che il nostro mare è pulito, se si eccetto appunto quel tratto che ci ha dato questi risultati e sul quale, come ripeto, stiamo lavorando assiduamente di concerto con tutti gli enti. Grazie. Grazie.